La crisi energetica ti spaventa? Il caro bollette è un problema? Puoi fare qualcosa anche tu? Lo sai che il 40% della spesa per l'energia delle famiglie italiane è dovuta al riscaldamento? Controlla se gli impianti sono efficienti. Puoi risparmiare denaro e inquinare meno l'aria che respiriamo. La manutenzione alle caldaie è indispensabile.